Nell'esempio precedente è possibile combinare le due strutture di controllo IF in un'unica struttura che è IF ELSE, semplicemente in questo modo. Possiamo abolire il secondo IF scrivendo ELSE, cioè altrimenti. In effetti, se la condizione dopo IF è vera, viene eseguito il codice appena dopo IF tra le due parentesi graffe e poi si continua uscendo dal IF. Se invece la condizione dopo IF è falsa, non viene eseguito il codice dopo IF ma bensì viene eseguito il codice dopo ELSE, cioè altrimenti. E quindi viene stampato il valore più grande che sarà in questo caso N2. Andiamo a verificare l'esempio all'interno del browser. Salviamo il file, apriamo il nostro esempio all'interno del browser e vediamo che viene stampato 19. Se invece i due valori N1 ed N2 fossero uguali, cosa succederebbe? In questo caso, se poniamo entrambi i valori uguali a 12, comunque il nostro codice ci stampa come risultato il valore di N2 perché dice se questa condizione è vera, in questo caso non è vera perché N1 non è maggiore di N2, altrimenti stampa N2 e quindi verrà stampato N2. A questo punto vogliamo dire che le due variabili N1 e N2 sono uguali attraverso un messaggio di testo. Possiamo utilizzare l'estensione di else con elseif e specificare una seconda condizione. Nel caso in cui dobbiamo dire se le due variabili sono uguali, si utilizza un doppio uguale. Quindi elseif variabile U uguale a variabile 2, quindi N2. Se ciò accade, voglio stampare un messaggio a video, quindi ecco variabili uguali. Andiamo a verificare, quindi a questo punto dovremmo avere come risultato il testo variabili uguali. Proviamo l'esempio e vediamo che il nostro esempio funziona. Vediamo come è possibile utilizzare alcuni operatori logici all'interno dei costrutti IF. Abbiamo un esempio in cui abbiamo dichiarato una variabile A di tipo intero e assegnato il valore 8. Vogliamo risolvere un problema. Il problema ci chiede di stampare un messaggio a video a video quando la variabile appartiene all'intervallo 1,10. Vediamo come è possibile risolvere questo problema. Dobbiamo utilizzare il costrutto IF in questo modo. IF aperta parentesi due volte, quindi andiamo a dire se la variabile A è maggiore di 0 e contemporaneamente, quindi ci vuole a questo punto un and che viene specificato utilizzando un doppio carattere di e commerciale. Quindi and variabile A minore o uguale a 10. Se questo è vero dobbiamo stampare il nostro messaggio utilizzando un semplice echo. Quindi possiamo dire che la variabile appartiene all'intervallo dato. Per provare salviamo la pagina e andiamo a visualizzarla nel browser. quindi localhost e vediamo la stampa del nostro messaggio. Quindi siccome A è uguale a 8, quindi è contenuto all'interno dell'intervallo 1,10, allora viene stampato il messaggio la variabile appartiene all'intervallo dato. Se proviamo a cambiare il valore della variabile A, mettiamo ad esempio 21 e andiamo a provare il nostro esempio e vediamo che non ci viene stampato nulla, poiché 21 è un valore che va fuori dall'intervallo 1,10, ovviamente. Facciamo ora un secondo esempio con l'operatore OR. Andiamo a dichiarare una seconda variabile B e assegniamo un valore nullo. Vogliamo stampare un messaggio se una delle due variabili, almeno una, è uguale a 0. In questo caso diciamo se A è uguale a 0, in questo modo, oppure questa volta utilizziamo due simboli di questo tipo per poter specificare OR, B è uguale a 0, allora se questo è vero stampiamo il messaggio una delle variabili è nulla. Andiamo come al solito a provare. Vediamo la stampa ci dà un valore nullo. Vediamo per quale motivo. Abbiamo scritto in B10 anziché 0. Andiamo ad aggiustare e vediamo di nuovo l'esempio nel browser. Ora a questo punto dovrebbe comparire il messaggio una delle variabili è nulla. Infatti abbiamo la stampa del nostro messaggio. Se andiamo a cambiare il valore 0 per B e mettiamo 2 ad esempio, vediamo che non ci viene stampato nulla poiché non c'è un valore 0 per almeno una delle variabili. ecco la pagina è vuota.